Brevissima storia di chiarimento, non sono un evasore, ho sempre dichiarato tutto, ho sempre pagato tutte le tasse, spesso in anticipo, a credito, è in corso un'indagine, sono normali controlli che vengono fatti, fortunatamente ho dei professionisti che si occupano di dichiarare le cose come si deve da anni e vedremo come andrà a finire. Nel frattempo mi dispiace che venga scritto, lui sale evasore, influencer che non pagano le tasse, è un po' antipatico, anche io se mi vedessi per strada in questo momento mi tirerei lo schiaffo, quindi se mi vedete per strada vi prego di non menarvi.